segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te se posso commentare le parole certo della premier un attimino certo uno può difendere dio ma dio non è soltanto cristiano soprattutto in europa siamo tanti appartenenti a tante religioni alla quella cristiana musulmana ebrei buddisti i nostri popoli le nostre i nostri paesi sono fatti ormai di una multitudine sono sta sempre fatti di una multitudine religioni no attenzione non soltanto di quella cristiana quindi se io parlo solo del dio cristiano escludo qualcun altro avere principi religiosi non è mica un reato comunque per il resto quello che succede questo è un giornale tedesco no aiutati un secondo mandiamo magari l'emergenza a lampedusa in un giorno solo più di 5.000 migranti che dicono di noi giornali dell'opinione pubblica tedesca del dibattito italiano questo ci anche interessa il dibattito pubblico in germania è concentrato da un lato su come vengono accolti i migranti e come vengono registrati e come vengono seguite le regole di dublino dall'altro lato si vede chiaramente la popolazione e io lo vorrei dire anche qui in questa occasione a lampedusa a pozzallo in tanti luoghi del sud italia che fa di tutto anche senza alcun aiuto per accogliere quindi è una grande con grandissima umanità quello che non funziona si è inceppato in questo momento e per il quale motivo per questo motivo il governo tedesco ha detto di non volere più più fare passare migranti che vengono dall'italia è il meccanismo di dublino perché sembra che moltissimi migranti non vengono registrati quando arrivano qua vengono messi da qualche parte poi vanno mandati avanti cioè o lasciati andare avanti una specie di trucco quasi non lo so non voglio sostenere nessun sospetto in questo in questo senso questo è molto interessante quello che dice la stampa tedesca l'ufficio pubblico federale della immigrazione ha accertato che l'anno scorso su te 75 mila migranti che non erano tutti era un campione neanche la metà aveva una registrazione di quella che appartiene alla legge alla norma di dublino che fa sì che il paese dove si approda il migrante deve essere registrato la build prima